bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'ottanta tresimo episodio della nostra master league con l'inter swiss pro evolution social 2 signori allora scorso video abbiamo ottenuto l'ennesimo pareggio signori contro il lizzo uno zero zero privo di emozioni che però è stato importante perché comunque siamo affetti da una pareggita in questo momento però abbiamo mantenuto il secondo posto con un ponticino di vantaggio sulla coppiata celsi firenze fiorentina e siamo a cinque punti di svantaggio dal d'ortum che va bene ma però mai che oramai se n'è andato signori non perdiamo tempo e partiamo con il video di oggi e va prima di partire dal video signori vi ringrazio per la che per i commenti presenti per il supporto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per così cerchiamo di crescere tutti quanti assieme allora si abbiamo gli scontri diretti quindi non si scherza più non si scherza più signori abbiamo il celsi che subito dietro di noi se noi vogliamo centrare la promozione la promozione passa dai prossimi due match contro inter contro celsi e contro fiorentina allora vogliamo provare a giocare così vogliamo provare a giocare così vogliamo provare a giocare così si proviamo a giocare così signori no aspetta che cazzo lo fai vogliamo provare a giocare così il cavolo ciò i miei i miei i miei attaccanti fuori praticamente che cazzo la dici mirando lo proviamo a mettere no mirando lascio qua che c'è piedi buoni a posto di ximenez non gioca nessuno signori dai così adesso possiamo giocare dai 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 perché c'è bolatta perché c'è bolatta se io avevo palesemente preso ronaldo signori perché c'è cazzarola c'è bolatta in campo perché c'è bolatta in campo non mi ha preso la sostituzione di 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 ronaldo non mi ha preso la sostituzione di ronaldo va bene subito così un cambio un cambio già fatto va bene va bene vi sembra normale ma vi sembra normale una cosa di questo genere babanjita lì da solo non può far nulla se non perdere il pallone bravo babanjita bravissimo babanjita bravissimo babanjita gli regaliamo anche una rimessa laterale bravo babanjita ahiai calma e stanno capito signori calma e stanno capito le partite sono lunghe loro hanno un certo andrew flow davanti al quale dobbiamo evitare di far toccare palloni un tentativo di pallone per claudio lopez che passeggiava 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 non 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 c'aveva voglia claudito di no bacci bacci chiudilo 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 che zolo è pericoloso chiudilo che zolo è pericoloso e che gli ho detto e che gli ho detto io niente l'angelo 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 ronaldo ronaldo attenzione per miranda che cerca flo che no per miranda che cerca flo cosa cazzo le lo dico miranda che cerca lopez ma porca ancora ancora sotto 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 che ne rinvia adesso ci siamo ne rinvia adesso ci siamo no mannaggia e giustamente sta palla viene allunciata sulla fascia ma l'intervento questa volta c'è ed è pulito ed è partito babanjita signori è partito babanjita è partito babanjita dagli le in profondità l'ho cliccato il pulsante per darle in profondità signori l'ho cliccato il pulsante per darle in profondità porca miseria infame o porca miseria infame dai c'è proprio un ritardo vai che fuori va bene va bene va bene va bene va bene vaia che nerdi che nerdi che mi vengono un 1-2 alto che non è servito palesemente a nulla un 1-2 alto che non è servito palesemente a nulla però attenzione attenzione dai 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 ronni dai ronni dai ronni battite dai ronni ronni non corre troppo all'indietro ronni chi c'è qui sulla fascia può venire a bloccare sto calcio d'angolo si sto calcio d'angolo sto cross ma perché qualcuno mi spiega perché qualcuno mi spiega perché eppure il calcio d'angolo gli ho regalato pure il calcio d'angolo gli ho regalato zola la battuta il 23esimo pallone al centro fuori gioco meno ma meno ma fuori gioco di petresco buttala sotto perché non sei attendibile dai 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 vai lopez vai clodietto vai clodietto vai clodietto che anche tu non hai trovato ancora il gol mannaggia a chi sta palla a chi sta palla a mia sorella giovanna ai 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 io non capisco perché grandissimo grandissimo babangita babangita troppo presto sto passaggio per ronaldo che però decide di partire ronaldo che decide di partire fa fuori mezza scuola fa un bagno ahhh troppo presto è stato il passaggio per babangita no no levagliela levagliela che sei tu lì e sei tu lì ivanov sotto sotto subito mannaggia balladissima ronni ronni punizione mannaggia riusciamo a superarlo no 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 signori no babangita 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 è un periodo che si sta mangiando tutto praticamente tutto e di più da un fastidio che mi fanno questi dribbling così che mi dà un fastidio che non so come spiegarlo fuori sta pallone no 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 grandissimo babangita 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 escivano fuori sto pallone va bene ronni ronni che non riesce però a tenerla di testa no 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 fuori 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 artitino artitino va bene fuori eh signori 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 miei signori miei non riusciamo a sfondare questa cosa è grave se sì se sì se sì cercato il bamba cercato il bamba che cerca una profondità per ronaldo impensabile impensabile la profondità per ronaldo da lì finisce primo tempo segnali finisce primo tempo inter celsi 0 a 0 siamo 0 a 0 giusto se stiamo 0 a 0 che ha avuto un attimo di dire che quanto cazzo lo stiamo allora bavan giro lo spostiamo questa parte e ronaldo lo spostiamo di qua dici ma che cosa ti serve a niente a palese in da niente perché non riesco a farli duettare i due dai tino 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 no che cazzo l'ho pensato si fermasse ronny ronny grandissimo qui l'anticipo bamba pieno di noi vivono perché si ha rallentato vabbè rimesso al fondo però ha rallentato il passo l'avete visto che ha rallentato il passo non le capisco certe dinamiche di gioco io non le capisco grandissimo valeri che ha finto di andare attenzione inter riparo partire in contropiede l'inter può partire in contropiede signori l'inter può partire in contropiede forse la volta buona che potevo fare una triangolazione tra ronaldo e babangita mi sono tenuto il pallone con babangita ce l'ho passata troppo presto aia 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 ivano vivano calcio l'angolo va bene l'unica azione che realmente potevo finalmente fare un 1 2 importante tra babangita e attenzione ronny 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 no 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 mamma mia l'ho vista dentro ai 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 Non riusciamo a sfondare Non riusciamo a sfondare Bavangita Per Ronaldo Che riesce a liberarsi Ronny, Ronny, Ronny Non ancora, Ronny Guardalo, guarda Arti Attenzione, Arti dal nulla No, Arti ci aveva provato dal nulla Arti ci aveva provato dal nulla Porca miseria Fuori sto pallone Bambangita mia Devi essere alto a saltare di testa Devi essere veloce a saltare di testa Che questi ce fregano Tocca la, tocca la, tocca la, brutto scemo L'ha toccata, signore L'ha crossata pure No, no, Zolladalino 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 Bravissimo Parti Bamba Parti Bamba Vai Bamba Vai Bamba Vai Bamba Vai Bamba Vai Bamba Cerca la triangolazione con Ronny Vai Bamba Vai Bamba Vai Bamba No Non era, non era rigore questo vero? No, no, no Fai scherzi Darmi un rigore così Ma che cosa? Fai scherzi Tifano No, sbagliato 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 Sbagliatissimo Sbagliatissimo Ma chi? Mannaggia Va bene Guardalo Guardalo Grandissimo Uno, due Tra Ronaldo Tra Ronaldo E Babangita Tra Ronaldo E Babangita Babangita riesce a liberarsi E Babangita Riesce a liber... Dai Finta di tiro Mauro Finta di tiro In questi casi Finta di tiro Ricordati Finta di tiro Finta di tiro Finta... Finta di... No Calma Pallano a terra Pallano a terra Calma 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 Ce l'è lì 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 Arti 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 Si è presentato ancora Arti, arti, arti Porca miseria Porca miseria Miranda, Babangita, riesce a girarsi Babangita, Babangita No, no, no No, no, no No, dai No, no, no No, no Bugo, buco grossissimo Bugo grossissimo, quanto una casa, signori Meno male che Valery ci salva Ma il pallone rimane lì Vai Bamba, vai Bamba È partito, è partito Babangita, signori È partito Babangita, è partito Babangita È partito Babangita È partito Stando gli occhi al cielo Porca di una miseria infame, attenzione No Valery, con calma, brava Riesce a metterla a terra per Arti Che cerca Babangita Che cerca Ronaldo Però il passaggio ha intercettato Al trentasettesimo No Passaggio va all'inghiè No, no Non lo farei girare Non lo farei girare Ma Ivanov Sotto, 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 sotto Che ce li ho? Non ce li ho No, porca miseria Recupera Recupera Bamba Recupera Bamba Vai Bamba Vai Bamba Ma se n'è andato Babangita, signore Se n'è andato Babangita Attenzione Babangita 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 Dai, è così Inter 1 Chelsea 0 Mamma mia che è sudata Mamma mia che è sudata Riusciamo a trovare quel cazzolo Quel cazzolo di angolino Al quarantaquattresimo Porca miseria Babangita Babangita, signori Babangita Babangita La sblocca lui Cortesemente la teniamo? La teniamo, cortesemente Non chiedo tanto La teniamo? Grandissimo questo intervento No, no Come ho detto Grandissimo questo intervento No, 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 no No, signori No, signori No, signori No, signori No, signori No, io non l'ho mancato Il tasto del file Non l'ho mancato Io non l'ho mancato Signori Non l'ho mancato Non l'ho mancato Non l'ho mancato Io non l'ho mancato Ammaccavo semplicemente il tasto Non ci posso credere Non ci posso credere Manteniamo il punto di vantaggio sul Chelsea Ma non sappiamo che ha fatto la Fiorentina 8 tiri a 6, signori La Fiorentina batte il Marsiglia E quindi E quindi non lo so In tutto questo Assis di Ronaldo per gol di Babangita Ci siamo fatti pareggiare sul rigore Non ci posso credere, signori Non ci posso credere In tutto questo la Fiorentina Noi andiamo a 2 punti c La Fiorentina ci supera La Fiorentina ci supera 41 punti a 40 Chelsea rimane a 39 Che ansia Che ansia, signori Rimangono le ultime 3 partite Scondeletto con la Fiorentina Dobbiamo vincere contro la Fiorentina, signori Dobbiamo vincere per forza contro la Fiorentina Ma detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto, signori mei E noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao Ciao